La moglie di FedEx al secolo Federico Lucia ha lanciato di recente una cover per il telefono cellulare per il cellulare con il suo famoso occhio, il logo che non manca mai. La bene pendilice digitale ha creato questa custodia Glamour, questa cover per iPhone 11 Pro in silicone. Il logo mania davanti, ossia l'occhio, nelle decorazioni gritterate azzurro e rosa, ma il prezzo sarebbe pensato di ben 60€. Ma non sarebbero mancate persone che avrebbero criticato asparamente il prezzo in questione. Troppo, 60€ è una cifra troppo elevata, non rispendo di certo per te. Molti avrebbero scritto ciò, altri invece sarebbero risentiti ampiamente e avrebbero detto io non butto soldi in questa maniera qua. Sta di fatto che la Ferragna ha lanciato questa cover per il telefono cellulare, ripeto, iPhone 11 Pro in silicone. Che vi piaccia o no è comunque un oggetto cult che è già diventato virale sul web. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narello Italiano, al prossimo video una buona giornata a voi.